Importante risultato raggiunto dalla ASD Shanti 1985 Vibo Valense, società sportiva presieduta da Renato Facciolo che da decenni ormai si distingue per la qualità del suo lavoro con i giovani. Al campionato italiano Schoolboy, il pugile vibonese Guzza Fassan, allenato da Aldo Facciolo, ha conquistato la medaglia di bronzo. La manifestazione si è svolta a Roccaforte Mondovì, presenti i più forti pugili di categoria d'Italia, provenienti dalle varie selezioni regionali ed interregionali. Fassan proviene dal forte gruppo di atleti che la Shanti Vibo Valense sta formando e giunge al campionato italiano dopo un lavoro finalizzato. Nel team vibonese si sperava in un suo risultato positivo e questo è giunto con non poca soddisfazione. Addirittura, visto l'andamento del campionato, poteva andare ancora meglio. Infatti, il pugile vibonese ha perso solo di misura l'incontro che lo avrebbe portato alla finale per loro. Una sconfitta comunque onorevole contro un avversario più esperto. Ma il nostro è un pugile che sa fare tesoro delle proprie esperienze, ha assicurato l'allenatore Aldo Facciolo, e che sta crescendo bene, assimilando tutto quello che può fare di lui un campione. Fassan, guidato magistralmente dal suo maestro, sta in effetti facendo grandi progressi. Ma ora è bene che si goda la sua medaglia nazionale, che sicuramente gli servirà come stimolo per il futuro.